Assessore Berlino, lei ha ascoltato con preoccupazione questa notizia di filo spinato trovato nei sentieri, nei boschi, nel nostro territorio, frequentati anche dagli appassionati di mountain bike. Come Assessore regionale al turismo immagino che questo susci di preoccupazione, voglio dire. Sì, preoccupazione. Per colpa di pochi idioti andiamo giustamente sulla stampa e in televisione per una notizia che se è tragica perché rischia di far far male a qualche d'uno il danno che fa sull'immagine turistica della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Sanremo, è devastante. Perché la regione in primisi, il comune di Sanremo e i comuni limitrofi della Valle Argentina, ma anche di molte altre parti della Liguria, puntano tantissimo per il progresso del turismo, per far crescere i numeri del turismo in zona, sull'outdoor, quindi sulla mountain bike e sul trekking, andare sui giornali in televisione perché è qualche stupido, perché non c'è altro modo per definirlo. Il progresso del filo spinato sui sentieri che si percorrono andando in bicicletta è follia perché si rovina un lavoro che stiamo portando avanti che costa fatica e costa denaro. La promozione non è a costo zero, la promozione è fatta attraverso l'immagine bella della Liguria, questi articoli e naturalmente questi servizi che poi vengono ripresi dalla stampa specializzata di tutta Italia, di tutta Europa e in alcuni casi anche di tutto il mondo, non fanno altro che rovinare un lavoro difficile che stiamo portando avanti come regione insieme alle amministrazioni locali. Ecco, ci sarà un intervento della regione allora per porre rimedio perché la rovina la fanno quelli che mettono il filo spinato più che gli articoli? La regione non ha la capacità di andare a rimuovere il filo spinato come non ha la capacità di poter impedire che qualcuno lo metta. Chiaramente sappiamo tutti qual è la situazione della guardia forestale, sappiamo tutti quali sono le vicissitudini che stanno attraversando la polizia provinciale. Naturalmente sono centinaia di chilometri di sentiero che vengono percorsi dai biker, è impossibile tenerli sotto controllo tutti e chiaramente sono comportamenti che devono essere criticati da tutti coloro che lavorano nel comparto turistico, che devono far fronte comune contro qualche numero esiguo di deficienti che rischiano di rovinare un lavoro importante che stiamo portando avanti tutti assieme. Grazie